Buon pomeriggio, siamo pronti per iniziare ed ho il benvenuto a tutti voi in diretta per questo webinar del ciclo di sapere consumare. Siete già stati con noi, mi auguro alcuni di voi, per chi ci conosce solo oggi ci prendiamo come al solito qualche minuto per dire qualcosa in più su questo progetto dedicato a voi docenti delle secondarie di primo e secondo grado. È un progetto promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Istruzione e stiamo toccando quattro tematiche che sapete bene, essendo insegnanti, sono davvero importanti per lo sviluppo di una cittadinanza digitale davvero piena e per l'esercizio di diritti e tutela in quella che è una società ormai sempre connessa. Le quattro materie sono l'educazione digitale, a cui stiamo dedicando questo primo ciclo di webinar che si conclude oggi con il quinto appuntamento, i diritti dei consumatori, con il quale partiremo già la prossima settimana, il consumo sostenibile e l'educazione finanziaria. Come dicevo sono quattro materie estremamente connesse tra loro e quindi compongono in questo caso per sapere consumare un percorso interdisciplinare, infoformativo, rivolto a voi docenti perché è con voi docenti che i misteri coinvolti aprono un dialogo e con le scuole del territorio per arrivare a fornirvi strumenti utili e conoscenze e competenze da trasferire alle vostre classi, alle nuove generazioni, alle studentesse, agli studenti e ai cittadini di oggi e di domani per potenziare la loro cittadinanza digitale, orientarli a un uso più corretto del digitale, a un uso più etico e soprattutto orientato a un consumo consapevole e responsabile. Sono venti gli appuntamenti in totale che ci vedranno assieme anche a un partariato costruito da ministeri coinvolti con istituzioni competenti per materia e ci accompagneranno quindi fino al 15 febbraio del 2022. Siamo arrivati al quinto appuntamento come dicevo ma quindi ce ne mancano ancora 15. Vi potete iscrivere come avete fatto finora tramite un portale di progetto che è sapereconsumare.it nel quale trovate anche tanti contenuti utili non solo per voi per approfondire sia testuali che multimediali, infografiche ma anche da portare in classe per portare appunto nelle vostre aule quelle che sono i contenuti di sapere consumare. Oggi arriviamo all'appuntamento quindi di oggi, ci occupiamo di educazione digitale, questo l'ho già detto, al consumo consapevole. Ci occuperemo in particolare del DigiComped, il quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali dedicato proprio a voi con Sandra Troia che avete già incontrato in alcuni webinar di questo ciclo in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è progettista di esperienze di apprendimento, formatrice, ricercatrice e autrice di risorse divulgative e didattiche sulla cittadinanza e sulle competenze digitali. Ritroveremo anche Enrico Maria Cotugno dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dirigente della Direzione dei Consumatori di AgiCom, esperto nella tutela degli utenti con particolare riferimento alle procedure di conciliazione e definizione delle controverse con gli operatori e procedimenti sanzionatori. Proprio con l'intervento dell'ingegner Cotugno inizieremo occupandoci di un tema che credo sia molto presente nella vostra didattica, nella nostra vita di tutti i giorni con le studentesse e gli studenti perché ci occuperemo in particolare del contrasto alla disinformazione e come proteggersi dalla rete. Con entrambi i relatori e la relatrice di oggi vi potrete confrontare proprio nell'ambito dell'educazione digitale. Mi farò una domanda, il modo per interagire con questo strumento è connettervi all'indirizzo che vedete, quindi www.menti.com, basta che lo digitate sul vostro browser, oppure se volete usare lo smartphone potete inquadrare il QR code che vedete. Dovete poi inserire il codice 24388872. Qual è lo scopo? Vorremmo sapere da voi che cosa significa per voi il termine digitale? È una domanda complessa, lo sappiamo, ma l'idea è anche cercare di tirar fuori da noi quelle che sono le cosiddette competenze forse un po' inconsce, ingenue magari. Che cosa suscita in voi il digitale? Provate a dircelo con una sola parola. È comunque un qualcosa che è entrato in maniera preponderante nelle nostre vite, ci accompagna durante tutto l'arco della giornata e comunque ci crea spesso problemi, molto spesso anche ci offre opportunità. Sto iniziando a vedere, credo anche voi, le prime parole comparire. Sono quelle che appunto voi docenti state scrivendo attraverso questo strumento. Ci aiuta anche a capire che tipo di stimoli il digitale vi dà. La prima parola che è comparsa è consapevolezza. Per chi non ha intervenuto fino ad ora, anche nei precedenti eventi, ho modo di comunque dirvi che la parola consapevolezza è quella più digitata. Innovazione è sicuramente la seconda e anche informazione. Quindi sono tre parole in realtà estremamente connesse tra loro, soprattutto nell'ambito di questo progetto. Ricordiamoci che è un progetto comunque orientato a un uso più consapevole del digitale e ad orientarci come cittadini e soprattutto come consumatori consapevoli. Ovviamente parliamo di digitale, quindi innovazione, ma anche di informazione. Ne parleremo in particolare oggi. Vi dicevo che comunque ci occuperemo nel primo intervento proprio di disinformazione, quindi cercare anche capire come proteggersi dai rischi della rete connessione. Ovviamente abbiamo parlato anche di infrastruttura tecnologica negli scorsi appuntamenti. Vi ricordo che se li avete persi potete recuperarli presto perché metteremo a disposizione i video nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, anche per le vostre colleghe e i vostri colleghi che non sono riusciti a partecipare, quindi eventualmente sentitevi liberi di consigliare questo percorso infoformativo. Approssimazione. È utile sicuramente, visto che avete a disposizione solo una parola, anche chiarirci eventualmente in chat le motivazioni per cui il digitale vi suscita una parola come approssimazione, anche se possiamo ovviamente anche un po' immaginarlo. Siamo qui proprio per questo, per diminuire il margine di approssimazione, aumentare quello di sicurezza e affidabilità e proprio per questo questo progetto poggia su partner competenti affidabili che sono in grado di trasferirvi solo informazioni certificate che potete quindi riportare nelle vostre classi con l'assoluta sicurezza di trasferire conoscenze competenze vere affidabili. Tenetevi pronti a rispondere. La modalità sarà sempre la stessa che vedete adesso e la useremo più volte. È una domanda e avete diverse opzioni. Dovete cercare di rispondere ad una sola delle opzioni. Con che frequenza utilizzi social network? In questo caso è molto semplice. Almeno una volta al giorno, più volte al giorno, ogni settimana, saltuariamente mai. Allora vi chiedo la cortesia di rispondere a questa domanda che riguarda, devo dire, tutti noi, credo siano ormai pochissime le persone che non hanno almeno un social network, però insomma sono pronta anche a scoprire sorprese da voi. Quindi con che frequenza utilizzi social network? Almeno una volta al giorno, più volte al giorno, ogni settimana, saltuariamente mai. Ancora qualche secondo per darvi la possibilità di rispondere e proiettiamo i risultati. Preparatevi perché subito dopo abbiamo un'altra domanda per voi, proprio da parte di Enrico Maria Cotugno, che vorrebbe quindi conoscervi un po' meglio prima di iniziare la sua relazione. Allora possiamo condividere i risultati di questo sondaggio, primo sondaggio. Allora come vedete il 24% di voi utilizza il social network almeno una volta al giorno. Il 61%, quindi la maggioranza, più volte al giorno. Il 5% ogni settimana, il 5% saltuariamente e c'è stato qualcuno di voi che invece ha scritto, ha digitato mai, ha scelto l'opzione mai, non utilizza mai social network. Quindi la sorpresa che mi aspettavo in realtà c'è stata. Vediamo assieme subito anche un'altra domanda che Enrico Maria Cotugno vi vorrebbe rivolgere ed è questa che vedrete adesso. Vi è mai capitato di inoltrare una notizia trovata su un sito web o su un social network oppure ricevuta come messaggio? Quindi in questo caso solo un sì o un no. Vi è mai capitato di inoltrare una notizia che avete trovato online su un sito oppure avete intercettato su uno dei social network che utilizzate e l'avete inoltrata a qualcun altro oppure l'avete ricevuta tramite messaggio e l'avete inoltrata a qualcun altro? Vi è mai capitato? Vi capita comunemente? Rispondete sì o no. Ovviamente stiamo cercando di capire da voi se immagino abbiate intuito e un po' vi ho accennato all'argomento della relazione che ci aspetta di Enrico Maria Cotugno però questo ci aiuta sicuramente anche a capire se avete già avuto a che fare comunque con quelli che sono gli strumenti dell'informazione della nostra vita digitale. Ok possiamo anche in questo caso proiettare i risultati e lanciare quindi subito anche quindi il 97% di voi ha risposto sì quindi quasi tutti noi anche io anche se non ho risposto però lo posso dire c'è capitato di inoltrare una notizia trovata su un sito web o un social network e inoltrarla a qualcun altro. La terza domanda è di solito verifichi le notizie prima di inoltrarle a qualcuno? Quindi abbiamo risposto praticamente tutti sì adesso la domanda è se prima di fare quest'azione di inoltro c'è l'abitudine a verificare la notizia rispondete sì o no e per cortesia chiedo a chi comunque ha l'abitudine di verificare di magari dirci tramite la chat o se preferite anche il domanda risposta se preferite non non condividere con gli altri partecipanti la vostra opinione direci come in che modo verificate le notizie e chi non lo fa magari ci può dire in che modo verificherebbe una notizia prima di inoltrarla a qualcuno. Quindi di solito verificate le notizie prima di inoltrarla a qualcuno e se sì come qual è il modo che utilizzate per qualcuno risponde mi rivolgo a Enrico Maria Cotugno per raccontare quello che sta succedendo nella chat verifico la notizia accedendo a siti diversi a più siti certi scrive a siti certi non posso rispondere sì o no dipende dalla notizia ci scrivono un'altra docente scrivo scrive cerco di risalire alla fonte possiamo condividere anche i risultati di questo sondaggio mentre leggo comunque la chat cerco di risalire alla fonte siti istituzionali l'88 per cento dei docenti verifica la notizia prima di inoltrarla risalgo alla fonte cerco di fare qualche ricerca su fonti diverse soprattutto quelle più attendibili controllo sempre la fonte ancora ci scrivono Daniele per Cossedu ci scrive cerco la notizia con la parola chiave bufala quindi cerco la notizia con la parola chiave bufala qualcun altro che vuole condividere controllo se più fonti riportano la stessa notizia quindi il controllo diciamo che la la parola fonte è quella che comunque sta emergendo di più da dai docenti cerco notizie sull'autore della fonte questo invece è un aspetto diverso no che riguarda comunque l'autore ok qualcun altro chi ha il sito eh che seguo altri eh scusate che ha il sito che seguo altri modi di comunicare che già conoscevo prima di entrare nel eh nel web non non capisco bene che cosa vuole dire la professoressa Coltelli perché ehm probabilmente controllo altri siti che già conoscevo prima di entrare nel web prima di entrare di leggere questa notizia utilizzo fonti istituzionali verifico l'attendibilità della fonte mi consulto con chi credo più esperto sull'argomento bene io eh direi che eh abbiamo avuto tanti stimoli dai docenti e mh è ora di sentire Enrico Maria Cotugno ma mh credo che prima eh abbia piacere che vediate eh un video eh che proviene proprio dall'autorità per le garanzie nelle nelle comunicazioni benvenuti questo video durerà un minuto in un minuto chiuderete gli occhi dodici volte e farete undici respiri in un minuto un bambino attraverserà una stanza con i suoi primi passi un minuto è il tempo medio per trovare il coraggio di tuffarsi da dieci metri e anche quello di un buon abbraccio nel frattempo in un minuto su google vengono fatte tre milioni e mezzo di ricerche novecentomila persone accedono a facebook su youtube vengono visualizzati oltre quattro milioni di video su spotify vengono ascoltate oltre mezzo milione di canzoni su twitter compaiono 452 mila nuovi tweet e su instagram 452 mila nuove foto su telefoni e tablet vengono scaricate 342 mila nuove app 3000 gigabyte di dati vengono trasmessi su reti mobili e solo in italia i telespettatori possono guardare contemporaneamente 423 canali televisivi nazionali e sintonizzarsi su più di mille emittenti radiofoniche 60 secondi finiti in questo stesso minuto l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha tutelato il pluralismo dell'informazione i diritti dei consumatori il diritto d'autore online la concorrenzialità dei mercati delle tlc e del settore postale e ha contribuito alla promozione dell'innovazione tecnologica ma non per un minuto soltanto ogni minuto 24 ore al giorno 365 giorni l'anno lo fa da 20 anni continuerà a farlo autorità per le garanzie nelle comunicazioni tutelare le persone promuovere il futuro grazie lascio quindi la parola ricomaria cotugno sì grazie bentrovati devo dire questo video mi fa sempre un certo effetto è un video che abbiamo realizzato per i vent'anni di agicom quindi nel 2018 ma in realtà ci tenevo a farvelo vedere oggi stamattina non solo perché questa è l'ultima chiacchierata che farete con con l'agicom ma anche perché il video in qualche modo vi dà alcune notizie sul vi dà il senso dell'importanza della digitalizzazione al giorno di oggi tutti quei dati che avete visto scorrere dimostrano come ormai long life è la nostra è il nostro modo di vivere viviamo sempre e continuamente connessi anche il sondaggio che abbiamo fatto lo dimostra il 98 per cento di voi e 95 per cento di voi ha risposto che almeno una volta si collega a internet durante il giorno e molti e la maggior parte di voi più volte al giorno e stiamo parlando di un pubblico comunque di docenti pensate ai vostri alunni se il sondaggio l'avessero fatto i vostri alunni saremmo sicuramente al cento per cento quindi mi è piaciuto anche molto il primo sondaggio chiamiamolo così quello cosa in cosa vi fa venire in mente la parola digitale devo dirvi se avessi risposto io forse avrei risposto libertà perché il digitale in realtà ci ha dato delle grandi libertà aumentato le nostre libertà libertà di espressione in prima battuta mi viene da dire un tempo prima del digitale per manifestare il tuo pensiero dovevi essere un giornalista uno scrittore dovevi andare in televisione oggi con i social network chiunque può manifestare il suo pensiero potenzialmente a milioni di persone dipende da poi dalla capacità del messaggio che lui veicola a raggiungere a diffondersi quindi diciamo non è più un limite oggettivo è un limite legato alla bontà del messaggio che si vuole mandare ecco perché libertà non ci sono digitale ci ha liberato dai liberi dai vincoli del 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 mezzo il fatto di poter veicolare sulla stessa rete immagini video audio suono eccetera eccetera ci ha allargato enormemente le nostre le nostre le nostre potenzialità di ascolto e divisione di informazione pensiamo soltanto ai canali televisivi finché il canale era analogico avevamo 23 canali adesso col digitale ne abbiamo visto avete visto prima il video parlava di 350 canali e quello stesso vale per per i siti giornalistici per le testate giornalistiche giornalistiche eccetera quindi libertà per quanto mi riguarda una libertà che comunque come tutte le libertà però va in qualche modo come dire vigilata perché vige sempre il principio che la libertà di un individuo finisce dove inizia quella di un altro però devo dire anche ho visto anche un paio nelle vostre risposte un paio di termini che mi hanno interessato informazione giustamente ma anche consapevolezza ecco consapevolezza secondo me la parola chiave anche per per la la presentazione di oggi perché informazione ecco tramite i social network ma anche tramite semplicemente la messaggistica istantanea le app per scambiarsi video eccetera ciascuno di voi può diventare veicolo di informazioni cioè può trasmettere delle informazioni perché basta girare inoltrare un messaggio e a quel punto ognuno di noi è diventato veicolo di quella informazione veicolo per la diffusione di quel messaggio e allora ecco che interviene l'altro termine consapevolezza quanto siamo consapevoli di questo ruolo che stiamo svolgendo in quel momento quanto siamo consapevoli del fatto che un semplice click può creare un effetto a cascata che determina la diffusione di un messaggio e allora la consapevolezza anche di cosa stiamo trasmettendo perché e mi rivolgo non a voi perché ovviamente le vostre risposte hanno dimostrato che la consapevolezza ce l'avete ma pensate questo è quello che andrebbe trasmesso ai vostri studenti a quanti click con leggerezza vengono fatti dai vostri studenti pensando che sia una sciocchezza uno scherzo una banalità senza sapere invece che quel click appunto innesca una reazione a cascata per cui quel click poi diventano dieci diventano cento diventano mille e un messaggio magari sbagliato magari di odio magari di razzismo di omofobia viene trasmesso e viene diffuso quindi ecco consapevolezza dobbiamo cercare di dare ai nostri ragazzi che poi sono un po' quelli che subiranno subiscono la questa questo effetto della digitalizzazione che occorre avere anche consapevolezza perché in mano hanno uno strumento eccezionale di libertà abbiamo detto ma anche uno strumento molto molto pericoloso quando quando mi trovo a parlare di media education io faccio sempre un esempio mai come in questo momento stiamo vivendo un divario generazionale perché noi abbiamo da una parte i nostri figli che sono nativi digitali per cui se gli metti un mano in mano un telefono vecchio cercano dove dove va digitato perché per loro è inconcepibile qualcosa che non sia touch dall'altro abbiamo i nostri genitori che forse i più evoluti hanno uno smartphone ma molti di loro avranno ancora un cellulare di quelli di vecchia generazione e di whatsapp di youtube non sanno di tiktok non sanno nulla e allora ecco il divario generazionale enorme che c'è in questo momento quante volte affidiamo i nostri figli ai nonni con un cellulare in mano con un tablet in mano i nonni non sanno assolutamente quali sono i rischi di quello strumento e i bambini si trovano a dover a tenere in mano una porta verso il mondo e il mondo lo sappiamo benissimo a volte nasconde molte insidie ecco perché la consapevolezza io insisterei molto sulla consapevolezza la consapevolezza da parte di tutti da parte dei genitori da parte dei nonni da parte dei ragazzi anche perché ripeto il digitale internet è un mondo affascinante un mondo di libertà ma è anche un mondo molto molto rischioso allora oggi mi vorrei concentrare sui rischi dell'informazione della disinformazione su internet sempre su insomma in generale sul su internet sui social network sempre appunto partendo dal presupposto che dobbiamo essere consapevoli che possiamo svolgere un ruolo attivo anche in questo campo non solo non cliccando o non inoltrando un messaggio pericoloso ma anche per esempio con un ruolo attivo e parleremo anche di fact checking che potrebbe essere un esercizio interessante anche da far fare ai vostri studenti io partirei da questa da questa slide nel 2016 l'Oxford Dictionary World ha scelto l'Oxford Dictionary ha scelto come parola dell'anno la parola post truth cioè post verità cioè nel 2016 e il 2016 è un anno particolare perché ci furono le elezioni negli Stati Uniti quelle che poi è l'estero Trump è la parola è stata la parola diciamo chiave del 2016 e cosa si intende per post verità si intende quella quelle circostanze nelle quali i fatti obiettivi determinano che non influenzano meno invece di quello che viene suscitato da emozioni o da credenze personali quindi l'influenza di fatti non oggettivi sul sulla società ripeto non è un caso nel 2016 è stata scelta questa parola perché fu l'anno delle elezioni di Trump e sapete ricorderete sicuramente quante lo strascico di polemiche che ci fu dopo l'elezione di Trump a proposito della campagna elettorale che fu fatta della campagna d'odio di disinformazione eccetera eccetera e allora veniamo a noi perché abbiamo detto 95% di voi va su internet più volte almeno una volta al giorno ma anche di più e su internet internet ormai whatsapp o facebook o instagram ormai sono diventati credo la fonte più diffusa di informazione che c'è in questo momento tant'è vero che tutte le testate giornalistiche stanno registrando ormai dei cali di tiratura notevoli questo significa appunto che bisogna stare attenti perché mentre scrivere una notizia su un giornale comporta delle verifiche comporta delle responsabilità soprattutto io so che se qualcuno scrive qualcosa su un giornale o lo dice in un tg in televisione c'è poi un responsabile per quella per quella notizia c'è c'è qualcuno che si prende la responsabilità della veridicità di quella notizia su internet questo non c'è perché a parte le testate online ma poi la maggior parte di notizie girano su siti che non sono testate giornalistiche girano come messaggi whatsapp girano come messaggi su facebook su instagram e lì non c'è nessuno che se ne assume le responsabilità e allora è facile poter scrivere qualsiasi cosa anche parole d'odio parole che incitono al razzismo all'omofobia eccetera oppure semplicemente creare delle notizie false e farle girare e farle diffondere e poi lì è difficile quando si innesca il meccanismo a cascata poi interromperlo a quel punto il danno per la gran parte si è già consumato perché si è diffusa questa notizia e magari qualcuno più ha veduto come voi le vostre risposte ecco sulle verifiche che fate che fate prima di non trarre una notizia lo dimostrano ma voi ripeto stiamo parlando ad un pubblico di professori, di docenti ma purtroppo il pubblico di internet non è fatto solo di docenti o di professori o comunque di persone che hanno una certa avvedutezza la maggior parte delle persone crede a qualsiasi cosa legge su internet senza preoccuparsi minimamente di verificare la fonte appunto come avete più volte ricordato voi e questo è molto molto grave perché si rischia di influenzare la vita politica di un paese come dicevamo si sospetta sia successo nel 2016 ma si rischia di creare danni alla salute quante quante volte vedete girare quelle notizie scoperto che bere acqua e limone ogni mattina fa bene scoperto che il melograno aiuta a effetti cancerogli anticancerogli eccetera quante notizie di medicina non verificate girano quelle rischiano di fare danni gravi anche alla salute quindi ecco perché bisogna iniziare a avere un po' più di consapevolezza e soprattutto di inculcarla nei nostri ragazzi un po' più di consapevolezza su sul fatto ecco che non necessariamente tutto quello che gira su internet è vero anzi e quindi dagli gli strumenti anche per verificare prima di bersi quello che vedono su internet come autorità per le comunicazioni quindi come autorità che appunto è competente prima battuta proprio sull'informazione svolgiamo anche questa funzione cerchiamo di svolgere anche questa funzione anche grazie appuntamenti come quello di oggi e quindi di dare qualche consiglio ai nostri utenti di come proteggersi dall'informazione e dalla disinformazione online e abbiamo anche realizzato ancora una volta un video con qualche con qualche consiglio in realtà una sorta di decalogo di sette regole da seguire per smascherare facilmente le notizie le fake news le notizie false è un video che si trova su youtube e quindi potreste anche proiettarlo in classe per farlo vedere ai vostri studenti chi sa rispondere grazie a tutti Grazie a tutti. La domanda che dovrebbero porsi è proprio quella ma perché le persone pubblicano qualcosa su internet e spiegare loro che dietro c'è sempre un guadagno perché immagino che i vostri studenti lo sapranno anche lo sapranno già però è bene ricordaglielo ogni volta che noi inoltriamo un qualcosa un messaggio una pagina eccetera una foto o mettiamo un like noi stiamo andando a gratificare l'autore di quel messaggio di quella pagina che molto probabilmente riceverà del denaro per quei click in base al numero di click che la pagina riceve. Ecco perché spesso trovate titoli sensazionalistici o quei titoli che evocativi però quei puntini sospensivi che finché non ci clicchi sopra non capisci di che si parla. Proprio perché sono fatti per indurre a cliccare su quel link o su quella pagina. E quindi torniamo a quello che dicevamo prima il ruolo attivo che possiamo svolgere nel migliorare il mondo di internet non cliccare non abboccare magari la prima volta ci abbocchiamo ma non cliccare più su questo tipo di messaggi. Ebbene quello è già un qualcosa in più rispetto alla semplice consapevolezza perché stiamo facendo in modo di ripulire il mondo di internet da questi siti che non fanno altro che pubblicare notizie inconsistenti ma con dei titoli che attraggono l'attenzione. Allora vediamo queste sette regole per verificare se una notizia è vera o falsa. Vi anticipo che queste regole in realtà valgono anche per non cascare invece in vere e proprie truffe online per quanto riguarda siti di shopping che sarà poi l'argomento della seconda parte della presentazione di oggi. Perché in realtà poi gli strumenti per verificare se un sito o se una pagina è vera o una fake sono sempre gli stessi. Allora la prima cosa quando vediamo una notizia su internet la prima cosa da fare è verificare l'URL cioè l'indirizzo perché già da quello si capiscono molte cose. Per esempio spesso lo stratagemma utilizzato da questi siti è utilizzare dei nomi molto simili a quelli di un sito istituzionale o comunque un sito ufficiale ma cambiando semplicemente una lettera. Ecco nell'esempio che abbiamo fatto noi salute.com o ministerosalute.com o .it quindi è vero che noi spesso non ci facciamo caso perché li leggiamo molto distrattamente o non li leggiamo mai gli URL. Ma invece l'URL dice molte cose. Quindi già un sito che ha un indirizzo URL un po' così farlocco è già un sito che dovremmo tacciare di essere un fake o di diffondere fake news. Poi l'autore perché se si tratta di un articolo gli articoli hanno sempre un autore o indicano quasi sempre un autore. Allora anche in questo caso basta fare una semplice ricerca su Google su quella persona su quell'autore per vedere chi è. Quindi per capire se è un nome falso innanzitutto e poi che autorevolezza ha quell'autore. Se leggo un articolo di medicina scritto da Enrico Maria Cotugno che è laureato in giurisprudenza beh allora forse qualche domanda sulla validità di quelle affermazioni ma dovrei porre. Anche la web reputation cioè cercare su internet quel quel nome e guardare se ci sono delle delle recensioni o comunque cos'altro ha fatto nella vita quel quell'autore. Verificare la fonte quindi l'avete l'avete detto anche voi perché giustamente è la è la è la prima risposta che viene da dare. La notizia da quale fonte arriva arriva da da una fonte ufficiale un'agenzia di stampa una testata giornalistica o arriva da un sito che non ha nessuna come dire autorevolezza o riconoscimento. E questo ripeto vale anche per i siti di e-commerce ma lo vedremo lo vedremo dopo con la seconda parte quindi andando sul sito sul sito c'è sempre una una parte del sito dedicata a chi siamo about us informazioni eccetera. Cliccando lì si possono raccogliere maggiori informazioni quindi capire chi è quella la 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 società che gestisce quel sito se è una società innanzitutto quindi che forma giuridica ha se è una persona di una persona fisica. La fonte voglio farvi un esempio che vi farà sorridere ma che è davvero capitato per farvi per dimostrarvi come addirittura a volte anche le fonti possano sbagliare perché a volte anche i giornalisti o i giornali o comunque le fonti ufficiali poi pubblicano delle notizie senza verificarne la veridicità. C'è un mio amico non è una barzelletta è vero che è un grande burlone a che certo punto iniziò a raccontare che c'era stato un incendio e l'elicottero antincendio aveva prelevato l'acqua a mare e poi l'aveva ovviamente usata per spegnere l'incendio in montagna e avevamo trovato un sub arrostito ancora con il con il perché l'elicottero aveva prelevato l'acqua di mare con questo sub e quindi avevamo trovato il corpo carbonizzato di questo sub sulla collina incendiata. Ebbene una testata giornalistica cartacea ha riportato questa notizia dopo qualche mese quindi dopo qualche mese io ho ancora il trafiletto conservato la notizia è diventata ufficiale. Allora uno la legge su un giornale cartaceo e dice beh la fonte è una fonte autorevole sarà vero e invece è una bufala messa in giro così nata una sera a cena tra un bicchiere di vino e una pizza. Quindi anche la fonte a volte non basta per verificare che una notizia sia vera. Quarto comandamento fare caso alla grafica perché è vero che questi siti di come dire fake news o comunque siti che fanno shopping un po' truffaldino spesso sono fatti molto bene e spesso richiamano siti veri però ecco se si fa un po' più di attenzione si capisce che la grafica spesso tradisce una natura non proprio legittima di quel sito. E questo soprattutto per quanto riguarda lo shopping online io insisto perché girano molto soprattutto sui social network su Facebook su Instagram poi degli annunci di siti per acquisti fasulli quindi delle vere e proprie truffe dove si vendono occhiali di marca dove si vendono vestiti di marca a prezzi stracciati e poi l'incauto consumatore che ci casca finisce per perdere il proprio denaro e nella migliore delle ipotesi acquistare dei prodotti contraffatti quando non addirittura non ricevere nulla. Quindi anche qui bisogna fare attenzione. Quinto comandamento attenzione ai titoli ESCA perché come abbiamo detto all'inizio questi siti cercano di attirare la vostra attenzione con dei titoli sensazionalistici o comunque che richiamano la vostra attenzione. Scandalo a corte, il principe Carlo, puntini sospensivi. Poi vai a leggere ha dimenticato la macchina fuori dal parcheggio. Quindi quello che vi dicevamo all'inizio i titoli sensazionalistici di solito nascondono un'ESCA quindi cercate di non abboccare e di non cliccare soprattutto sui link. Fare un check. Quindi e qui entriamo diciamo è un po' un approfondimento. Quindi cercare di verificare le notizie. E questo è quello a cui mi riferivo all'inizio quando ho detto potrete anche assegnare ai vostri studenti questo esercizio perché adesso vi mostrerò dei siti di fact checking cioè dei siti che smascherano le bufale. E quindi anche i vostri studenti potrebbero sguinzagliarsi su internet come ho fatto io stamattina per farvi vedere invece un esempio di shop un po' così sospetto e quindi sguinzagliarli alla ricerca di fake news. Quindi trovare le fake news e poi verificarle con uno di questi siti di fact checking. Lo stesso vale per le fotografie per esempio. Potete dire ai vostri studenti che ci sono dei siti sui quali inserendo, applaudando una fotografia lui mi fa la ricerca e mi dice quando è stata utilizzata per la prima volta per esempio. È molto comune pubblicare delle foto che non sono contestualizzate poi alla notizia. Per esempio i morti di covid e si pubblica la foto dei morti nel Vietnam quindi un capannone pieno di bare o cose di questo genere. E infine la spunta blu. I siti ufficiali anche i profili ufficiali su Facebook hanno quella spunta blu che dovrebbe in qualche modo rassicurarci sulla provenienza. E infine la raccomandazione che abbiamo dato anche all'inizio quella di non condividere se non si è sicuri di quello che si condivide. Proprio perché condividendo si diventa parte di questa disinformazione. Se non siamo sicuri di quello che non condividiamo meglio non condividere. Io sulle slide c'è anche il link di un altro video che abbiamo fatto ma per motivi di tempo magari non lo mandiamo. Ce l'avete così potete farlo vedere semmai in classe ed è proprio il video dove troverete quei sette comandamenti per riepilogarli ai vostri studenti. Adesso come smascherare le bufale online? Quindi quali sono questi i fact checking? Come si fa il fact checking? Quindi la verifica dei fatti? Appunto ci sono dei dei siti che fanno questo di mestiere venivano ritencati alcuni e Facebook ha proprio su anche su richiesta dell'agicom ha messo su un programma di fact checking quindi Facebook per le notizie che vengono pubblicate su Facebook si appoggia a questi ad alcuni di questi siti di fact checking per eliminare le bufale. E vi ho fatto vi faccio vedere un esempio. La bufala del blocco del blocco fiscale del Green Pass. Questa l'ho presa da Open che è uno di questi siti di fact checking. Vedete il 28 ottobre se non ricordo male su una pagina Facebook di quella di sinistra di questo gruppo che si chiama Io sono populista viene pubblicata la notizia eh tramite il Green Pass ti controllano se hai pagato le tasse se non le hai pagate ti bloccano il Green Pass. La notizia viene in realtà viene ripresa era già stata data da eh Diego Fusaro con un noto personaggio che va sempre fa anche in televisione un filosofo che a sua volta il 17 ottobre aveva postato la stessa notizia quindi aveva dato questa notizia vedete eh eh quella di Fusaro ha avuto ventiduemila condivisioni quindi ventidue mila persone ritenendo Diego Fusaro una persona affidabile hanno condiviso la notizia quindi vedete l'effetto a cascata pensate quelle ventiduemila condivisioni poi a se a loro volta sono state condivise quanta gente è arrivata la notizia. Il fact checking quindi questo sito che fa verifica la notizia non c'è nessuna norma che dice che si possa fare questa cosa qui cioè il blocco fiscale dei Green Pass come un po' come il blocco amministrativo se non pagate le multe. Se non hai pagato le tasse ti 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 annullo il Green Pass. Non solo ma poi tecnicamente spiega il sito è impossibile perché non c'è un modo per bloccare il singolo Green Pass quindi o li blocco tutti o non posso bloccare solo il Green Pass di Enrico Maria Corugno perché non ha pagato le tasse quindi nei fatti dimossa che è una bufala e quindi la conclusione è che si tratta di una bufala e infatti stamattina sono andato a guardare sulle due pagine Facebook che vi ho citato prima e quei post sono stati rimossi, cancellati. Un'altra bufala questa l'ho presa da Facta che è un altro sito italiano di fact checking. Tunderberg che ha dichiarato che non c'è crisi climatica anche qui con tanto di foto eccetera eccetera tutto falso ma è tutto come dire sgamato da Facta. Pagella politica è un è un invece un un sito di fact checking che è specializzato nella nelle dichiarazioni dei politici e vedete a seconda del colore le loro riportano delle dichiarazioni e poi col colore vi vi dicono questo è vero questo è falso questo è decontestualizzato comunque non è proprio così e quindi in conclusione ecco valendo trarre delle conclusioni i social network ci mettono in contatto col mondo ma è un mondo pieno di insidie quindi bisogna stare attenti bisogna mettere soprattutto in guardia i nostri ragazzi perché noi ecco forse abbiamo ancora quella sorta di come dire di ritrosia e di diffidenza di chi si è trovato di fronte a uno strumento nuovo ma i nostri ragazzi ci sono nati ci sono piombati e quindi per loro il mondo è quello allora bisogna metterli in guardia come quando da piccoli la nonna ci diceva attento alle macchine attento al semaforo attraverso tutte le strisce e quindi fare attenzione e non farsi intrappolare dalla rete quindi sotto un duplice aspetto non solo quello delle truffe online quindi non farsi intrappolare e cascare nelle 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 tedesche ma ancora prima questo è veramente molto importante non farsi intrappolare non farci intrappolare la mente perché tutte queste notizie tutti questi siti vengono costruiti per attirare la nostra attenzione sempre di più sempre di più quindi per creare una sorta di dipendenza e allora è su questo che bisogna mettere in guardia i nostri ragazzi perché ogni istante speso su internet è un istante che non spendiamo per altre attività io non so se abbiamo ancora tempo abbiamo ancora cinque minuti allora un altro voglio farvi invece un esempio velocissimo di shop di annuncio che si trova su facebook e che potrebbe indurci a degli acquisti come dire forse incauti da verificare è pieno vi dicevo su internet di questi annuncio questa è la mia pagina facebook io stamattina provo per per essere aggiornato ho trovato questo annuncio e ce ne sono tanti occhiali da sole scarpe sempre di marca tra l'altro e allora ho detto vediamo di che si tratta cosa dovreste fare cosa dovrebbe fare ognuno di noi prima di cliccare e di andare ad acquistare su un sito che non conosce perché poi vedete lì l'indirizzo email l'indirizzo internet l'url è bit.li eccetera eccetera allora ancora una volta come abbiamo detto prima prima cosa guardare l'url quindi primo controllare se si tratta di un protocollo di sicurezza cioè basta ricercare lo stesso sito ma con davanti l'acronimo https perché s sta per secure quindi se io ho il sito gartner.com allora mi vado a cercare su internet su google https due punti slash slash gartner.com e quella è la prima verifica perché se il sito è un sito affidabile avrà il lucchetto verde chiuso quindi come vi ho fatto vedere in questo caso quindi almeno da questo punto di vista io so che è un sito che ha un protocollo di sicurezza l'altra verifica da fare è quella sul sul nome come abbiamo già detto per esempio potreste trovarvi io ho scritto www.agcom.i ma gli esempi se ne potrebbero fare tanti quindi verificare ripeto guardarlo sempre l'indirizzo perché l'indirizzo ci dice molte cose. un'altra cosa importante guardare che nell'indirizzo non ci sia et perché per quanto riguarda il come dire la pagina web vale quello che c'è dopo l'et quindi io potrei scrivere poste italiane et 1234 in realtà io sto andando sulla pagina 1234 poste italiane viene ignorato perché è primo dell'et quindi anche questo spesso succede allora rayban et 1234 in realtà sto andando su 1234 perché è importante che lo dia che lo diffondiate questa questa informazione perché davvero stanno girando tantissime truffe sia via email sia via sms quindi messaggi e in arrivo un pacco per te per verificare dove si trova clicca qui clicchi sul link c'è un filo un falso sito della ups o della dhl o delle poste italiane ti fanno registrare acquisendo i tuoi dati e poi hanno in mano tutti il tuo cellulare quindi tutti i tuoi dati le tue password eccetera eccetera quindi questo è molto importante ripeterlo spesso a tutti non cliccare mai sui link che vi arrivano via messaggio sia su sms su email eccetera arriva un email delle poste vai sul tuo sito perché il conto è bloccato ok www.posteitaliane.it oppure ubibanca.com oppure fineco.it quindi mai cliccare su quel link ripetetelo fino alla noia perché questa è la base di ogni truffa il link se noi non clicchiamo sul link abbiamo risolto ogni problema poi ancora una volta verificare la web reputation quindi io non l'ho mai sentito questo sito vediamo se in internet qualcuno l'ha sentito e in effetti facendo una ricerca su google non usciva nessun risultato allora sono andato su uno dei siti di web reputation in questo caso si chiama scan detector e scan detector mi dice che in effetti la web reputation di questo sito non è molto altra a 28.6 su 100 e spiega anche perché cioè come è stata creata questa web reputation quindi è un sito anche trasparente da questo punto di vista ti dice in con che criteri si è attribuito quel quel punteggio quindi diciamo da questo punto di vista la web reputation il sito non non ho altre referenze perché non ho altre quindi è anche un sito che non ha avuto molti utenti fino ad oggi e infine il consiglio che vale sempre è usare il buon senso quindi se io vedo che vendono dei giubbotti a 50 euro giubbotti che normalmente costano 200 euro qualche domanda me la devo fare o stessa cosa per gli occhiali da sole non cliccare mai sui link come abbiamo detto fare attenzione attenzione al linguaggio utilizzato nel sito perché spesso ci sono errori di grammatica si vede che è una traduzione sbagliata fatta con un traduttore automatico le virgole sono messe male insomma anche da questo da questi da queste circostanze ci si può accorgere che è un fito è un sito fake e poi come abbiamo già detto anche per le fake news guardare la parte about us o chi siamo non ci siamo ma chi siamo e quindi vedere gli indirizzi dove 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 ha la sede l'azienda se ha una partita IVA se è indicata vedete in questo caso eh contact us il sito che ho eh che ho verificato riporta soltanto un'email e vedete anche un indirizzo mail abbastanza strano quindi qualche sospetto a me è venuto e eh e con questo io ho finito vi ringrazio per l'attenzione adesso vediamo non so se ci saranno delle domande ehm forse possiamo fare il sondaggio adesso per vedere anche se ormai li abbiamo li abbiamo messi in campana però vediamo il sondaggio eh che risultati ci restituisce intanto eh proprio dalla chat emerge che eh almeno una di queste truffe eh eh la uno uno dei docenti la conosceva dice l'SMS del fatto qui è te l'ho ricevuto di recente eh ci sono dei ringraziamenti per lei che le riporto allora sì comunque ascoltiamo la voce dei docenti anche se avete delle domande in chat eh vi invito a farle eh per Enrico Maria Cotugno in questo primo sondaggio eh quello che vi chiediamo è se avete avuto un'esperienza eh del genere cioè avete mai acquistato online un prodotto o un servizio cliccando proprio su uno di questi banner presenti sui social network che Enrico Maria Cotugno vi ha fatto vedere quindi se no se vi è mai capitato anche io ho avuto dei falsi SMS ci scrivono quindi eh le truffe tramite SMS o i tentativi comunque eh si sono diffuse hai mai acquistato un prodotto o un servizio tutto molto interessante le scrivono e riporto man mano i complimenti che arrivano allora rispondeteci quindi se avete mai acquistato un prodotto o un servizio eh cliccando su uno di questi banner e vediamo assieme eh le la la vostra esperienza possiamo condividere eh i risultati eh no almeno la maggior parte di voi non ha mai comprato eh cliccando eh su sui banner pubblicitari il 29% di voi invece lo ha fatto eh vi chiediamo quindi a chi eh chiediamo nello specifico a chi ha comprato eh cliccando eh su banner se ha avuto problemi potete anche dircelo in chat se volete come preferite perché in realtà vorrei eh andare eh andare subito al sondaggio successivo eh con la regia quindi all'ultimo sondaggio che è quello su ho comprato un mini trapano eh non dico la marca a prezzo stracciato e mi sono arrivati i guanti quindi è andata benissimo allora prima di acquistare ho effettuato verifiche sulla serietà del sito anche sulle intenzioni vorrei che rispondesse ho comprato ma pago la consegna quindi si è tutelato in questo senso io ho fatto acquisti ma mi sono coperto con l'assicurazione allora prima di acquistare quindi ho effettuato verifiche sulla serietà del sito mi sono fidato perché il banner era presente sui social network non ho mai acquistato cliccando su un banner queste sono le risposte potete integrare con la chat insomma sentiamoci un po' liberi di utilizzare questi strumenti come preferiamo l'importante è che riusciamo a dialogare con Enrico Maria Cotunno sull'argomento quindi diciamo l'abitudine è fare verifiche prima sulla serietà del sito oppure fidarsi perché comunque il banner è sul social network o come in realtà avete già risposto il 79% di voi non ha mai acquistato cliccando sul banner possiamo vedere anche i risultati di questo sondaggio e ripeto comunque se volete condividere con noi anche allora ovviamente il 61% forse qualcuno non ha risposto ma si conferma quello che dicevamo prima non ha mai acquistato cliccando su un banner tra chi ha acquistato però la maggior parte il 34% ha effettuato verifiche sulla serietà del sito e solo il 5% si è fidato solo perché il banner è sui social potrebbe essere utile ci chiedono guardare le foto dei prodotti pubblicati dai consumatori che recensiscono il prodotto che ne pensa? Eh sì le recensioni rientrano più in generale nella web reputation nel senso che c'è qualcuno che ha usato quel sito e poi ha recensito il prodotto ma a occhio perché spesso sono false anche le recensioni quando sono dei siti truffaldini falsificano anche le recensioni e ve ne accorgete ancora una volta perché spesso sono scritte male oppure sono palesemente come dire accondiscendenti nei confronti del sito quello potrebbe essere uno dei tanti indizi che il sito non è farlocco qualcuno ha scritto io mi proteggo con Paypal beh quella sicuramente potrebbe essere è una garanzia senza acquistare non con la carta di credito ma con Paypal Paypal ha una sua una sua come dire politica di protezione degli acquisti che in qualche modo ci mette a riparo ma per quanto mi riguarda io consiglio meglio evitare perché anche con Paypal poi ci sarebbe c'è da avere delle da aprire una pratica fare il reclamo insomma comunque sono perdite di tempo la cosa migliore secondo me è prevenire e quindi usare qualche accortezza quelle accortezze che vi ho segnalato ma vi ripeto siccome è un fenomeno che sta emergendo in maniera forte su Facebook insomma sui social network ecco è importante che voi mettiate in in guardia i vostri studenti perché almeno al momento io di siti veri che fanno pubblicità su 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 di siti grandi che fanno pubblicità su Facebook l'ho visti pochi francamente fanno le pubblicità fanno i banner ma non i messaggi eh sponsorizzati eh come in questi casi e quindi far attenzione cercare di trovare quanto quante più informazioni possibili per non rischiare eh c'è qualcuno che scrive ancora Paypal la docente ci scrive eh sapevo dei rischi eh ma insomma ne faceva anche una questione di costo cioè il costo era basso ho deciso di rischiare ma non ci proverò mai più quindi la differenza può farla anche questo e per quanto riguarda sì la garanzia cui si parlava sì ma è così Paypal alla fine risarcisce devi fare il reclamo devi dimostrare mandare le foto però alla fine risarcisce io preferisco evitare a me è successo una volta e poi ho capito che è meglio evitare tanto e secondo me il prezzo è quello che che fa come deve essere il primo la primo campanella di allarme se c'è un prezzo troppo basso probabilmente c'è qualcosa di strano quindi verificare il sito da dove dove si trova se fuori dall'Europa perché tra l'altro ricordiamolo eh finché un sito europeo vengono le norme a tutela dei consumatori dell'Unione Europea se è un sito fuori da extraeuropeo non vengono più le regole eh per la tutela dei consumatori o meglio vengono per gli acquisti fatti in Europa ma è comunque una società che si trova al di fuori dell'Unione Europea quindi voi valla valla a cercare ricordo che di questi aspetti anche consumeristici riguardanti la tutela ci occuperemo anche a partire dalla prossima settimana con il ciclo di webinar dedicato ai diritti dei consumatori e per quanto riguarda Enrico Maria Cotugno lo ringrazio per questo approfondimento vi ricordo che eh avete a disposizione sulla piattaforma anche un articolo di approfondimento su questo tema anche con i link alcuni dei link che ha utilizzato Enrico Maria Cotugno che abbiamo condiviso in chat ma anche magari per le colleghe che i vostri colleghi non sono intervenuti oggi possono trovargli dei riferimenti. Grazie ancora Enrico Maria Cotugno e per quanto riguarda proprio il dialogo con voi in chat eh poco fa qualcuno di voi scriveva eh che eh le studentesse e gli studenti non hanno il background culturale che eh abbiamo noi con noi credo intendessi diciamo noi adulti eh diciamo che l'obiettivo è anche eh arrivare a fare in modo che le nuove generazioni li abbiano e eh lo si può fare anche eh diciamo seguendo quello che è il quadro europeo eh delle competenze digitali no per tornare al tema della consapevolezza eh per quanto riguarda proprio gli educatori e formatori quindi proprio eh eh attraverso voi educatori e eh su questo tema eh e di questo tema eh parleremo eh con Sandra Troia che è la nostra seconda relatrice di oggi eh che ho introdotto eh nella prima parte del webinar quindi lascio la parola a Sandra Troia proprio sull'argomento delle competenze digitali della consapevolezza eh della consapevolezza. Buonasera e bentrovati eh sì noi parleremo di eh competenze digitali che riguardano sia i docenti eh sia eh gli studenti eh e i cittadini eh sia le competenze naturalmente che sono descritte all'interno del eh modello di riferimento eh digicom consumer. Allora. Iniziamo ehm pensando ad uno scenario quindi lo scenario è quello dei componenti del consiglio di classe della terza A che desiderano progettare un'attività per favorire proprio perché i ragazzi ne hanno bisogno eh lo sviluppo della consapevolezza digitali ehm digitale degli studenti intesi come cittadini consumatori. e sempre eh all'interno di questa esperienza vogliono guidarli a riconoscere eh i rischi dell'ecosistema digitale. Quindi come eh partiamo? Partiamo, dicevo prima, utilizzando dei modelli di riferimento. Perché ci sono utili? Perché se facciamo una progettazione che eh non si lega a nessun modello condiviso, questa progettazione eh e eh potrebbe essere una buona progettazione però eh rimane isolata, non diventa eh repli facilmente replicabile, non diventa comparabile con altre attività analoghe. se invece noi eh decidiamo di eh riferirci a dei framework in questo caso a dei framework europei, la nostra esperienza di apprendimento potrà essere replicata più facilmente e confrontata non solo nel contesto nazionale ma anche nel contesto europeo. quindi gli strumenti eh che eh utilizziamo sono il Digicomp Edu che descrive le competenze digitali di chi si occupa di istruzione e formazione, il Digicomp 2.1 che eh descrive le competenze digitali dei cittadini ma oggi anche le competenze digitali degli studenti e il Digicomp Consumers che è il modello di riferimento da cui prende eh vita questo percorso formativo, questo ciclo di webinar. Iniziamo con un sondaggio. Allora sì eh sentiamo subito la vostra voce eh al riguardo eh ricordo che eh proprio Sandra Toriglia e anche il collega Roger Ottani si sono occupati eh di eh sviluppare eh la tematica del Digicomp Digicomp Consumers se no avete perso le dirette potete poi recuperare i video che pubblicheremo nell'area riservata del portale Sapere Consumare. Relativamente proprio ai modelli Digicomp, Digicomp Edu e Digicomp Consumers eh vi chiediamo se avete una buona conoscenza, una conoscenza limitata o non li conoscete affatto. Quindi eh per capire se questi eh framework europei dedicati alle competenze digitali, alle competenze digitali dei educatori e formatori, alle competenze digitali dei consumatori, sono mai entrate nel vostro nella vostra sfera di conoscenza se vi siete mai approcciati. Quindi una buona conoscenza o una conoscenza limitata oppure non li conosco affatto. Vi ricordo che eh potete sempre eh in qualunque momento utilizzare anche lo strumento della chat e oppure dialogare con me attraverso domande e risposte. Allora vediamo eh qual è il vostro livello di conoscenza di questi strumenti. Ehm condividiamo quindi quindi i risultati eh con Sandra Troia eh in maniera da eh capire se avete mai sentito parlare di eh di eh questi quadri europei. Allora il 43% eh di voi non ha mai eh sentito parlare di questi quadri di riferimento europei per le competenze digitali. Il 38% ha una conoscenza limitata e il 19% invece ha una buona conoscenza. Lascio la parola quindi al commento della nostra relatrice. Allora ehm la radice di tutto eh di tutto questo sistema di modelli di riferimento è il DIGCOMP. Il DIGCOMP è strettamente connesso alla raccomandazione europea eh sulle competenze chiave eh che sono necessarie a tutti i cittadini europei fuori o dentro il percorso scolastico. Eh come eh questo modello eh si è eh sviluppato? Si è sviluppato andando a appunto eh declinare in modo molto analitico la competenza digitale. Partendo dal DIGCOMP sono poi eh stati sviluppati eh dei modelli come il DIGCOMP EDU che invece ha ehm focalizzato si è focalizzato su quelle che sono le competenze digitali necessarie a un docente nel ventunesimo secolo. Un docente che eh appunto deve eh guidare i propri studenti a diventare dei cittadini digitali competenti. eh all'interno delle slide avete a disposizione il QR code e ehm inquadrandolo potete eh direttamente ehm accedere alla eh al testo del framework eh oppure potrete utilizzare il link eh che è abbinato. Eh andiamo insieme a ehm fare una panoramica, a conoscere meglio le competenze digitali per i docenti che sono appunto considerate eh necessarie per svolgere al meglio il nostro ruolo professionale. Eh in questo modello abbiamo delle aree specifiche. Le aree sono sei. Eh nella prima area abbiamo il coinvolgimento e la valorizzazione professionale. Quindi vedete che per ciascun'area eh l'area ha un numero e quindi a ciascun'area poi sono abbinate ehm e la e la l'infografica rende più chiara la struttura del framework delle competenze che vengono numerate con il numero dell'area e un numero progressivo quindi uno punto uno comunicazione organizzativa eccetera. Eh in quest'area eh ritroviamo tutte le competenze che noi eh come docenti o formatori dobbiamo possedere eh per poter comunicare all'interno della nostra organizzazione oppure con i nostri studenti oppure con i genitori oppure con eh altri soggetti che vogliamo coinvolgere nella nostra azione di progettazione e formazione. Abbiamo necessità di essere competenti in materia di collaborazione quindi utilizzare gli strumenti, gli ambienti digitali per poter collaborare al meglio ehm e eh rendere quindi facile questa collaborazione sia in modalità sincrona e in un ambiente fisico condiviso oppure in modalità sincrona però in ehm un ambiente digitale oppure asincrona. Poi abbiamo necessità di eh riuscire a riflettere su eh quello che è il nostro operato. Come noi chiediamo ai ragazzi eh al al termine di un'attività didattica di riflettere sul processo di apprendimento di cui sono stati i protagonisti così anche noi docenti dovremmo essere in grado di ehm rileggere anche utilizzando gli strumenti digitali eh riguardando per esempio tutte le attività che realizziamo all'interno di una classe digitale andiamo a riflettere ehm sull'attività che abbiamo condotto andando a cercare gli elementi che sono migliorabili gli elementi invece che eh possono essere considerati delle buone prassi quindi vanno ripetuti e poi ehm partendo da questo abbiamo la possibilità di ehm accrescere trovare definire delle strategie per accrescere la nostra competenza professionale. Eh infatti una delle eh competenze digitali previste nel DigiCompedu è legata proprio all'utilizzo del digitale degli strumenti digitali per l'aggiornamento continuo per appunto la partecipazione a come a corsi come questo voi in questo momento che state seguendo il webinar state agendo la vostra competenza professionale in materia di aggiornamento eh utilizzando eh la l'elemento appunto digitale. La secondaria è legata alle risorse digitali. Le risorse digitali ehm ci chiedono eh di ehm possedere delle competenze eh che siano utili per selezionare per esempio delle risorse didattiche che vogliamo ehm riassemblare eh rimixare nel rispetto naturalmente dei copyright delle licenze in quelli che sono eh dei materiali didattici che vogliamo ehm fornire ai nostri studenti o che eh vogliamo mettere a disposizione degli studenti nell'ambiente di apprendimento. Poi abbiamo la ehm competenza digitale sempre legata alle risorse digitali che è quella di riuscire a modificare delle risorse. Anche questo nel rispetto delle licenze. Noi sappiamo che ci sono delle licenze che ci consentono eh di modificare la risorsa mantenendo però eh il riferimento all'autore, al primo autore dell'opera che noi abbiamo modificato. Poi abbiamo necessità di avere delle competenze che ci consentano di gestire queste risorse digitali, di proteggerle, di condividerle e quando noi siamo gli autori di queste risorse anche in questo caso come autore principale vado ad applicare una licenza. Quindi ho ehm diciamo la capacità di seguire tutto il processo di edizione e di condivisione della risorsa didattica che ho prodotto. Ehm altra area è dedicata alle pratiche di insegnamento e di di apprendimento. Queste eh pratiche di insegnamento quindi eh ormai diventato il nostro pane quotidiano. Eh noi con la didattica digitale integrata abbiamo sviluppato delle pratiche di insegnamento in cui l'elemento digitale si è integrato alla pratica didattica che quotidianamente svolgiamo in classe. ehm lo lo si dice ma è opportuno ripeterlo la pratica della didattica digitale integrata non deve fermarsi con la conclusione dell'emergenza sanitaria ma è necessario continuare a consolidare le competenze che anche con una certa difficoltà abbiamo acquisito ehm e continuare appunto ad offrire ai nostri studenti un ambiente di apprendimento un'esperienza di apprendimento allargata. Loro sono cittadini digitali, noi siamo cittadini digitali, quindi noi abbiamo una cittadinanza potenziata. Il nostro essere cittadini normali adesso si è potenziato, si è allargato anche la dimensione digitale. La scuola, l'esperienza dell'apprendimento non può essere un'eccezione. Per cui eh quando ehm vogliamo coinvolgere i nostri studenti in un'esperienza in cui apprendono e sono attivi in questo processo noi dobbiamo riuscire sempre ad integrare le due dimensioni. Quindi ehm dobbiamo riuscire a utilizzare eh le eh risorse digitali, gli ambienti digitali per guidare gli studenti, per personalizzare l'esperienza del singolo studente, quindi e riuscire a supportarlo se ha delle difficoltà. E un altro eh elemento interessante è quello che eh è una nostra competenza il saper promuovere e gestire l'apprendimento collaborativo. Quindi ehm e anche in questo quando noi creiamo delle stanze, creiamo delle classi, degli ambienti ad hoc ehm diamo il compito di ehm redazione di un test online attraverso un un documento che è condiviso eh tra degli un gruppo di studenti, noi stiamo agendo la nostra competenza professionale digitale. Abbiamo poi la nostra la necessità di eh riuscire a realizzare interventi che consentano l'apprendimento autoregolato. E ehm un esempio banale eh quando noi ehm approntiamo per esempio dei percorsi di verifica, questi percorsi di verifica possono o limitarsi a dare l'esito quindi su dieci domande lo eh lo studente o la studentessa ha risposto correttamente a cinque e quindi il ehm il il la valutazione è appena sufficiente. Ma può trasformarsi questo strumento di valutazione anche in un strumento di supporto. Quando a tutte le risposte errate io ehm abbino un feedback che guida lo studente o la studentessa a comprendere l'errore, a consultare la risorsa utile a consolidare quel gap che è appena dimostrato di possedere. Eh ma non solo eh potrei dare un feedback anche alle risposte corrette invitando lo studente o la studentessa ad un ulteriore step di approfondimento. Abbiamo poi l'area legata alla valutazione dell'apprendimento. Perché? Perché gli ambienti digitali ci forniscono eh gli strumenti digitali ci forniscono la possibilità di eh avere memoria e di poter elaborare i dati eh delle prove ehm dei nostri studenti. Quindi possiamo ehm utilizzare delle strategie di valutazione personalizzate, possiamo analizzare i dati. Questo è un elemento molto importante. Eh quando somministriamo un test specialmente se si tratta di un test strutturato noi possiamo analizzare domanda per domanda la percentuale delle risposte corrette, il tempo di risposta, quindi possiamo lavorare sul dato per avere una fotografia molto più eh lucida, molto più accurata del livello di conoscenza, in questo caso il test eh va a valutare la conoscenza eh dei nostri studenti. Poi abbiamo il la possibilità di ehm quindi ehm puntare ad una ehm riprogrammazione della didattica. Una volta che noi eh andiamo ad analizzare l'esito di un percorso possiamo eh attivarci per migliorare questo questo percorso ehm andando a eh mettere su delle strategie appunto che rispondono a quei punti di criticità che abbiamo individuato. L'altra area è legata alla valorizzazione delle potenzialità degli studenti. Quindi siamo al supportare gli studenti, valorizzarli ehm questa valorizzazione noi non dobbiamo ehm pensare alla personalizzazione soltanto guardando ai soggetti che possono portare dei bisogni educativi speciali, ma a tutti. Quindi la tecnologia, il digitale può eh certamente essere un supporto per gli studenti che hanno dei bisogni educativi speciali, ma anche per gli studenti che sono ehm hanno delle competenze, hanno delle skills di alto profilo e che quindi necessitano anche questi di eh essere coinvolti in un processo che possono trovare sfidante, altrimenti rischiamo di perderceli, di vedere scemare la loro partecipazione. Naturalmente nella valorizzazione delle potenzialità degli studenti dobbiamo considerare l'accessibilità, l'elemento inclusivo e quando noi siamo inclusivi consideriamo anche il fatto che non tutti gli studenti hanno eh gli stessi eh strumenti, gli stessi device eh quindi dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni che siano supportate dalla maggioranza dei dei device a disposizione degli studenti, oppure ci possono essere problemi legati alla connettività o altro. Altra cosa che dobbiamo stimolare proprio nell'ottica della cittadinanza è la partecipazione attiva, quindi eh cercare eh di eh utilizzare il digitale per spingere gli studenti a partecipare a delle consultazioni, a proporre delle idee sia all'interno della comunità educante sia all'esterno. Interloquendo, naturalmente se sono della scuola secondaria di primo grado, i primi anni della scuola secondaria di secondo grado, interloquendo come linea ehm come primo interlocutore avranno i docenti, però i docenti potranno poi guidarli a affinché questi soggetti possano, questi studenti possano interloquire con delle realtà esterne, quindi il sindaco della città eh oppure arrivare a livello regionale, nazionale. ehm in questo caso ciò che eh in questo contesto di particolare interesse per noi è l'area sei. L'area sei è l'area che riguarda le competenze dello studente, quindi un compito del docente è quello di ehm guidare gli studenti affinché consolidino e potenzino le competenze digitali che sono necessarie per la cittadinanza. Infatti la competenza digitale è una delle otto competenze chiave europee. Le eh cinque competenze che sono inserite in questa area sono eh andremo a vedere ehm sovrapponibili alle cinque aree del modello DigComp. Eh le il confronto lo guarderemo più più tardi. Eh comunque riguardano appunto la capacità di informazione, la capacità di comunicazione e collaborazione, la ehm la sicurezza, la risoluzione dei problemi eccetera. In questa slide invece ehm andiamo a considerare come il DigComp.edu inquadri i livelli di padronanza, per cui noi come ehm docenti eh veniamo, possiamo essere valutati, possiamo autovalutarci, esiste il DigComp.edu check-in che è un ambiente in cui siamo guidati passo passo a in un percorso di autovalutazione strettamente legato al DigComp.edu. e come veniamo classificati? Veniamo classificati ehm considerando una valutazione eh degli step che vanno dal A1 al C2. Questa organizzazione ci ricorda moltissimo il quadro comune di riferimento delle lingue. Noi sappiamo per esempio abbiamo dimessichezza con le certificazioni linguistiche per esempio in lingua inglese. Io ho un livello A1 se conosco alcuni vocaboli, lemmi, poi divento un po' più bravo, riesco a esprimermi semplicemente, quindi ho A2, poi divento di livello intermedio e quindi gestisco piccole conversazioni, B1, altro tipo di conversazioni, B2, arrivo poi ad essere ehm capace, spigliato, riesco ad affrontare delle tematiche che non riguardano solo la vita quotidiana ma utilizzo la lingua peraltro quindi sono già a livello eh elevato il C1 fino a diventare un vero e proprio madrelingua. Questa struttura è stata ripresa e quindi se noi siamo ad un livello base comunque possediamo una competenza ed è una competenza legata alla conoscenza, siamo curiosi, abbiamo una motivazione che ci spinge a volerci formare ulteriormente. Poi passiamo alla all'esplorazione e all'applicazione, quindi siamo in grado di proporre un uso efficace eh degli ambienti e cerchiamo di appunto eh coinvolgere i nostri studenti in questo uso di ambienti e strumenti. Crescendo diventiamo sperimentatori, formatori, innovatori, quindi siamo in grado di definire delle strategie diversificate, di riflettere come abbiamo detto prima, cioè noi valutiamo, riflettiamo sul nostro utilizzo eh in qualità di docenti eh delle degli strumenti digitali, degli ambienti digitali, delle risorse digitali, fino a che riusciamo completamente ad innovare, proponiamo qualcosa di innovativo. Quindi la l'idea è questa eh che poi è il concetto di competenza, nessuno è senza competenza, tutti hanno una competenza, questa competenza può essere eh legata a una semplice conoscenza, alla curiosità e quindi va piano piano supportata affinché possa avere delle basi utili affinché eh ci consenta poi di innovare, di coinvolgere per esempio come formatori altri colleghi. Dicevamo che il il nostro focus in questa in questo incontro è legato all'area sei del digicompedu, quindi favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti eh e aiutare gli studenti ad utilizzare in modo sia creativo che responsabile le tecnologie digitali. Noi come eh formatori, come docenti non vogliamo formare i nostri studenti ad essere soltanto utilizzatori di ambienti, strumenti e risorse, ma vogliamo che siano in grado di essere creativi e quindi di proporre e di generare innovazione. Lo scenario quindi che avevamo preso come riferimento è quello di favorire la consapevolezza digitale degli studenti consumatori e i rischi nell'ecosistema digitale. Qui rivediamo eh la l'abbinamento eh dell'area sei e la struttura delle cinque competenze che sono la sei punto uno l'alfabetizzazione all'informazione in media, la sei punto due comunicazione e collaborazione digitale, quindi arriviamo alla creazione di contenuti digitali, poi abbiamo quello che ci interessa l'uso responsabile del digitale fino ad arrivare alla risoluzione dei problemi. In questa slide ho abbinato eh la struttura del DigComp Edu alla struttura del DigComp per cui vedete la eh area uno che è quella in giallo arancione che è l'alfabetizzazione io leggo la traduzione in italiano alfabetizzazione su informazioni e dati coincide ed è sovrapponibile con la prima area del DigComp Edu. Così ehm per la seconda area che è quella eh celeste quindi communication and collaboration quindi comunicazione e collaborazione è sovrapponibile alla sei punto due. Così per le altre restanti quindi ehm le aree eh le aree del DigComp si trasformano in competenze specifiche per il docente. Il docente è competente se riesce a guidare gli studenti a diventare competenti nelle diverse aree del DigComp. DigComp. Ecco andiamo eh un po' più sul concreto quindi i questi componenti del consiglio di classe della terza A hanno questo compito da svolgere devono fare devono mettersi a tavolo a tavolino eh o sulla cattedra intorno ad un eh un'altra cattedra per progettare come fanno? Da che cosa iniziano? Iniziano selezionando prendendo il fascicolo il modello di riferimento DigComp consumers e vanno a individuare le competenze eh che vogliono consolidare per cui per esempio in questo caso hanno deciso che queste sono le eh competenze del DigComp consumer prima dell'acquisto che vogliono ehm realizzare un'attività eh che eh sia focalizzata a consolidare la competenza del prendere in considerazione un consumo sostenibile e responsabile nei mercati digitali. Quindi vanno a individuare questa questa competenza e su questo lavorano. Eh facendo questo che stanno facendo? Stanno agendo lo vedrete lo vedete nella slide eh DigComp Edu 6.4 stanno agendo la loro competenza professionale legata alla competenza DigComp 6.4 cioè stanno guidando gli studenti a ehm essere consapevoli e responsabili eh nell'utilizzare il digitale. Eh la competenza DigComp che è la matrice da cui tutto nasce è la competenza 4.4 proteggere l'ambiente. Naturalmente in questo esempio io ho preso in considerazione una competenza. I eh colleghi del consiglio di classe della terza potrebbero decidere di lavorare su più eh competenze specifiche. Probabilmente nelle prime esperienze meglio andare eh con piccoli passi. Cioè partire da una competenza eh per la la l'area prima dell'acquisto, una competenza per l'area durante l'acquisto e una competenza per l'area dopo l'acquisto anche perché oltre alla progettazione io devo poi come eh team di progettazione andare a sviluppare le rubriche valutative quindi a dare delle dichiarazioni di competenza specifiche su quella competenza che ho individuato. Quindi diventa un lavoro già così partendo da uno un lavoro di ehm importante per cui è bene eh non disperdersi eh individuando troppe competenze in una prima eh fase. Eh la ehm la cosa interessante è che se condividiamo tutti questo tipo di approccio dopo un periodo di rodaggio avremo a disposizione dei documenti condivisi che potremo tra gruppi di lavoro appunto eh scambiare ed integrare. Stesso esempio l'ho portato eh relativamente alla ehm area durante l'acquisto in questo caso la competenza presa eh come competenza da sviluppare la 2.6 proteggere sicurezza e salute. Eh sempre per il digi compedu io ehm vado a lavorare cioè che qual è la mia competenza come docente eh sto lavorando sull'uso responsabile del digitale. La competenza digi comp invece quella appunto da cui tutto eh prende spunto e la 4.3 proteggere la salute e il benessere. Per quanto riguarda il dopo l'acquisto anche in questo caso un'unica competenza selezionata 3.3 identificare limiti e lacune delle competenze dei consumatori digitali quindi io spingo i miei studenti a eh interrogarsi su quelle che sono le carenze in termini di competenze ehm legate al loro essere eh cittadini consumatori digitali. Sto agendo professionalmente la la competenza 6.5 perché supporto i nostri gli studenti eh sulla risoluzione di problemi eh si chiama così ma riguarda anche la l'identificazione dei gap e ehm per quanto riguarda la competenza specifica digi comp 2.1 eh è quella di individuare i divari di competenze digitali appunto. Allora eh in questo caso ehm una delle nostre i nostri dubbi è come posso eh far rientrare il eh il tema della eh del consumo digitale all'interno della della progettazione didattica che ogni giorno ehm conduco in aula. Quindi io avevo eh lanciato un un sondaggio. Sì eh arriva subito il sondaggio. Intanto eh ne approfitto per riportare quello che è successo in chat. Eh anzi faccio tutte e due le cose contemporaneamente. Allora nel sondaggio eh Sandra Troia vorrebbe sapere eh da voi in che maniera l'educazione al consumo digitale consapevole può concorrere all'educazione alla cittadinanza digitale quindi nell'ambito dell'insegnamento eh dell'educazione civica eh scusate se può secondo me l'educazione può concorrere quindi sì no oppure non sono sicura o non sono sicura eh ovviamente la domanda inerisce la trasversalità no dei dei framework europei che Sandra Troia vi ha illustrato quindi secondo me l'educazione al consumo digitale consapevole può concorrere all'educazione alla cittadinanza digitale nell'ambito di insegnamento all'educazione civica sì no non sono sicura. Mentre rispondete ehm a questa domanda volevo riportare appunto quanto eh in chat eh avete scritto riguardo comunque a eh la didattica digitale integrata anche eh cogliendo il segno no di quello che è l'acronimo di lì quindi eh sottolineavano i docenti eh come la didattica digitale sia sempre più utilizzata anche in presenza quindi in maniera integrata e sia anche uno strumento che favorisce l'inclusione a proposito appunto di quello eh dell'argomento eh che avevi citato riguardo appunto l'inclusione anche eh di eh dei BES eccetera. Allora eh per quanto riguarda quindi questo sondaggio se avete risposto possiamo condividere i risultati eh secondo voi l'educazione al consumo digitale consapevole può concorrere all'educazione alla cittadinanza digitale? Sì no non sono sicura non sono sicuro queste erano le opzioni vediamo i risultati. Per il 95% di voi quindi praticamente eh quasi tutti eh l'educazione al consumo digitale consapevole concorre all'educazione alla cittadinanza digitale soprattutto nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. Noi abbiamo visto quanta corrispondenza ci sia tra il Digcom consumer e il Digcomp. Il Digcomp come abbiamo detto è legato alla raccomandazione europea e quindi descrive in maniera puntuale la competenza digitale. Per cui se parliamo di eh consumo digitale consapevole non possiamo essere lontani da una forma di cittadinanza digitale. Eh andiamo a leggere eh questa ehm questo è una un piccolo estratto legato dalle conclusioni del consiglio dell'istruzione digitale ehm in merito è possibile eh no togliere il il sondaggio così riesciamo ecco grazie mille eh le conclusioni del consiglio un attimo le conclusioni del consiglio dell'istruzione digitale nella società della conoscenza ecco questo è recentissimo è del duemilaventi quando si definisce la cittadinanza digitale la si definisce come un insieme di si inizia dai valori dalle competenze dagli atteggiamenti dall'attitudine dalla conoscenza dalla comprensione critica se noi andiamo a guardare il Digcom consumers è proprio questo noi quindi puntiamo al consumo consapevole sostenibile quindi in realtà portiamo avanti un sistema di valori poi deve essere supportato da alcune competenze di conoscenze un atteggiamento l'atteggiamento ehm della verifica dell'informazione verifica dell'affidabilità del del venditore eccetera comprensione eh critica quindi eh non eh non temiamo smentite se diciamo che questa è una parte eh la lo sviluppo del consumo delle competenze legate al consumo ehm consapevole è una parte della eh nel nostro essere cittadini digitali eh infatti il cittadino la cittadina digitale sa come utilizzare le tecnologie ed è in grado di interagire con esse in modo competente e positivo eh è in grado di eh operare in modo attivo che è quello che noi vogliamo fare nel processo di acquisto eh riuscire per esempio una delle competenze della dell'acquirente è riuscire a interagire con il venditore oppure se è eh egli stesso è la stesso il venditore riuscire a interagire con eh il target a cui offre i propri servizi o i propri beni quindi eh queste competenze digitali eh consentono a ci consentono perché tutti noi siamo cittadini digitali di operare in modo attivo e sicuro e deciso nel mercato digitale quindi vedete abbinate la eh descrizione eh e il il testo che viene dalle conclusioni del consiglio dell'istruzione digitale a quello che invece indicato proprio nel testo del modello di riferimento ehm se vogliamo avere ancora più riscontro sarà sufficiente andare a guardare gli obiettivi formativi che sono eh inseriti nelle linee guida negli allegati delle linee guida all'insegnamento dell'educazione civica quindi il nostro obiettivo è favorire la il fatto che gli studenti possano navigare in modo sicuro lo facciamo anche quando proponiamo il digicon consumer individuare le informazioni corrette o errate se si tratta di una fake news una descrizione errata di un prodotto questo attraverso il confronto con altre fonti e quindi eh sa applicare le regole della privacy anche questa è una competenza che ritroviamo nel digicon consumer prende piena consapevolezza dell'identità digitale anche questa se voi consultate in maniera attenta il digicon consumer è una competenza del consumatore digitale e anche in questo caso concludiamo con un altro ehm un altro brevissimo ehm questionario eh un invito a collaborare ehm vi chiedo per coinvolgere attivamente gli studenti nel processo formativo eh quale utilizza quale metodologia utilizzate sì in realtà eh potete usare la chat quindi non non il sondaggio zoom quindi eh vi chiediamo eh di condividere eh con noi eh quale metodologia utilizzate nel processo formativo per coinvolgere gli studenti quindi indicateci in chat qual è la metodologia che più utilizzate intanto mi fa piacere riportare quello che scrive questa docente perché direi che eh dice direi che tutti noi siamo cittadini anche nell'ambito eh del digitale e dobbiamo essere competenti quindi cogliendo proprio il senso di quello che stiamo dicendo e soprattutto riempendoci di soddisfazione a tutti allora eh laboratoriale scrive una docente eh una docente brainstorming eh aperta e chiusa ma insomma c'era stato adesso un attimo un momento di eh confusione con il soddaggio non chiedevamo in realtà eh sia una metodologia aperta o chiusa ma qualunque tipo di metodologia eh utilizzate nelle vostre classi per coinvolgere gli gli studenti utilizzo risposte aperte la flip classroom laboratoriale quindi diciamo tendenzialmente anche eh metodologie orientate comunque al confronto al saper fare mi sembra che stiano emergendo discussione guidata laboratoriale total eh physical response e debate cooperative learning questo sempre dimostrazione eh dei eh docenti preparatissimi no learning by doing stanno uscendo comunque diciamo le metodologie più moderne più contemporanee lo diciamo anche con fiorezza visto che sono i nostri docenti eh laboratoria sono i miei colleghi quindi lo dico con fiorezza per la categoria benissimo colleghi ancora cooperative learning eh con eh con domande giuste e specifiche eh piattaforma della scuola lezione dialogata tecnologie per il vicente e per il docente e citando anche alcune tecnologie cooperative learning ancora eh comunque diciamo la tematica del confronto eh ci sembra essere eh presenti nelle classi. L'idea appunto era quella di proporvi eh una delle eh metodologie oppure una delle degli approcci che possiamo utilizzare quindi naturalmente è questa mia proposta è soltanto un esempio che è assolutamente in linea con le metodologie eh che avete indicato o descritto. Eh il nostro obiettivo eh proprio perché eh ci stiamo rivolgendo allo studente quindi vogliamo sentire il suo punto di vista eh è che i componenti del consiglio di classe eh hanno inteso ehm importante lavorare eh su queste tre competenze quindi la uno eh punto cinque del digicom consumers eh prendere in considerazione un consumo sostenibile e responsabile dei mercati digitali poi eh la quattro punto quattro che quindi adesso si lega a proteggere l'ambiente la cinque punto tre del digicom utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali e poi ecco quello che invece riguarda noi perché le prime i primi due blocchi riguardano quello che noi eh a cui puntiamo cioè sono le competenze che noi vorremmo acquistare consolidare o potenziare nei nostri studenti quelle che si riferiscono al digicom consumers o al digicom invece l'ultimo blocco è ehm legato alle competenze che noi come professionisti eh per che questo accada dobbiamo agire certamente non sono le uniche però eh per rendere più snello eh più snella la presentazione ne ho selezionate ehm solo due pratiche di insegnamento quindi una pratica di insegnamento innovativa interattiva eccetera e poi il nostro guidare i ragazzi a avere un uso responsabile del digitale ehm la pratica che è il modello che ehm brevemente volevo introdurre è quella del challenge based learning quindi dell'apprendimento basato su sfide ehm pur essendo questo ehm framework perché poi si tratta di un framework che ritrovate utilizzando il QR code o le ehm i link che sono indicati nella il QR code fa riferimento proprio al framework e al sito eh il secondo link invece è una guida anche se è un po' datata sempre molto utile eh legata proprio alle schede che possono essere prodotte per guidare passo passo gli studenti in questo apprendimento basato su sfide eh nel primo caso la il sito eh ha la possibilità di essere tradotto in lingua italiana le schede invece sono solo per adesso in lingua inglese ehm dicevo il questo approccio questo framework è un eh è stato sviluppato da Apple quindi una società privata però tutto il lavoro è eh rilasciato con licenza aperta quindi lo possiamo riadattare ehm in quali sono le fasi di questo apprendimento basato su sfide coinvolgere quindi noi passiamo con ehm da un tema generale che in questo caso per noi è il consumo nei mercati digitali alla definizione di una sfida legata al contesto quindi la sfida la ehm risposta ad una problematica eh o una situazione che i nostri studenti ritrovano molto legata al loro punto di vista al loro vissuto eh legata per esempio agli acquisti che loro fanno di eh strumenti digitali digitali o di altro quindi noi li guardi li guardi li guidiamo partendo e proponendo loro un tema generale e poi li guidiamo a definire a fissare una sfida ehm che viene tradotta come posso fare a consentire uno sviluppo del mercato digitale consapevole per risolvere questa ehm questo dubbio questa domanda eh gli studenti passano ad utilizzare la rete per informarsi e formarsi sulla sul tema del mercato eh e del consumo in ambiente digitale per cui utilizzano la rete per documentarsi per archiviare le informazioni quindi tutte quelle competenze del digcomp che abbiamo guardato le vanno ad agire legate ad un compito concreto poi arriva la fase dell'azione nella fase dell'azione utilizzando in maniera creativa la tecnologia cercano di mettere in campo di realizzare di suggerire una soluzione concreta in cui la tecnologia sia la chiave che consente la risoluzione del problema per esempio potrebbero realizzare un'app o potrebbero ehm attivare un sito web di informazione o formazione oppure naturalmente se gli studenti sono molto giovani anche realizzare un video di presentazione divulgativo legato al target dei loro coetani possiamo adeguare il eh la soluzione e lo strumento risolutivo a quella che sono il le loro competenze la loro fascia d'età dopodiché testano questa soluzione con un pubblico reale che può essere il pubblico di un'altra classe dell'intera scuola della città a livello nazionale quindi dalla loro dalla dalla classe escono producono quindi la tecnologia consente loro di essere creativi realizzano testano quello che hanno proposto come soluzione concreta raccolgono il feedback di questa loro ehm di questo loro eh come dire esempio esercizio attività e lo vanno a valutare quindi non fanno che engage noi li coinvolgiamo investi che noi li portiamo a ricercare e act li portiamo ad agire eh un docente si chiedeva se ci sono altri riferimenti oltre al citato eh digcomp connessi alle competenze chiave europee che possono essere utilizzati appunto nell'ambito della progettazione didattica. Sì noi abbiamo eh altri modelli di riferimento abbiamo un modello di riferimento che si chiama entrecomp che è legato alla competenza chiave dell'imprenditorialità e di ultimissima pubblicazione c'è anche il lifecomp che riguarda le competenze personali sociali e dell'imparare ad imparare ed è molto interessante questo ultimo framework eh vi dico soltanto che l'immagine simbolo è un albero per cui le aree di competenza personale sociale imparare ad imparare sono le tre parti della chioma dell'albero e invece i rami rappresentano le competenze specifiche mentre per quanto riguarda i livelli di padronanza e lo trovo veramente poetico abbiamo un'evoluzione dalla gemma al frutto e al fiore ed una delle competenze che vengono citate per esempio l'empatia eh che è una cosa di cui abbiamo particolarmente bisogno in ambiente digitale se effettivamente cittadinanza digitale significa condividere anche dei valori quindi dobbiamo rendere empatico questo ambiente e imparare ad essere empatici anche in ambiente digitale. Non posso che rafforzare quanto detto sia a livello poetico che riguarda la necessità di portare l'empatia nell'ambiente digitale e portarlo anche sempre più possibile nelle nostre vite. Ringraziamo Sandra Troia eh per eh questi per l'intervento di oggi eh ne approfitto per ringraziare anche Enrico Maria Cotugno che è intervenuto nella prima parte del webinar e eh come al solito eh vi do qualche informazione di servizio eh prima di eh salutarci. Allora per quanto riguarda eh gli appuntamenti sapete ormai che eh ci vediamo una o due volte a settimana in questo caso quindi vi do appuntamento già martedì, ho anticipato eh già eh all'inizio del webinar che lanceremo il ciclo eh eh sui diritti dei consumatori quindi vi invitiamo ad iscrivervi con le stesse modalità che avete utilizzato per partecipare oggi eh abbiamo condiviso in questa chat il link ma lo trovate come al solito eh nella piattaforma sapere consumare e ci auguriamo lo consigliate anche eh lo consigliate anche ai vostri eh alle vostre colleghe, ai vostri colleghi sulle scuole e nel territorio eh nel quale siete inseriti. Eh il calendario è comunque disponibile all'indirizzo che vedete sapereconsumare.it slash webinar eh a tutti voi che avete partecipato almeno all'ottanta per cento di questa sessione eh sarà recapitato un attestato eh tramite email e ehm ci vediamo quindi eh martedì eh per il primo appuntamento indirizzo dei consumatori di sapere consumare. Grazie a tutte e a tutti.